Dal 24 al 26 maggio Roberto Mancini terrà uno stage a Coverciano per osservare e valutare giovani talenti da proporre in futuro alla Nazionale Maggiore. Tra gli oltre 50 convocati spicca il nome di Fabiano Parisi, il serinese giovane talento dell'Empoli, sta salendo pian piano tutte le gerarchie del calcio, ritagliandosi un posto di spicco tra i ragazzi più talentuosi del panorama nazionale. A capirlo anche il tecnico azzurro che lo ha evidentemente notato nella stagione appena conclusa, di strada ne ha fatta Parisi. Partito da Serino con la pro-Irpinia di Roberto Filarmonico e sotto gli occhi attenti di mister Nicola Limone, ha ben presso rivelato tutto il suo talento. Il papà, Charles, scomparso da poco, era il suo primo tifoso ed è stato lui insieme agli allenatori a portarlo ben presso alla perconti a Roma. Qui gli anni della crescita che hanno attirato l'attenzione di Simone Puleo, osservatore del Benevento. L'ex capitano dei Lupi lo portò dunque nel Sannio, dove il suo talento ha cominciato davvero a sbocciare. In uno snodo fondamentale stava per approdare all'ercolanese, ma Puleo, nel suo rapporto privilegiato con i Lupi, lo dirottò poi proprio all'Avellino. Qui, come in un incrocio di destino, è esploso anche grazie alla lungimiranza di Eziolino Capuano. L'allenatore di Pesco Pagano lo ha stimolato, rimproverato ed amato, al punto di farlo diventare davvero un calciatore maiuscolo. Inevitabile, dopo l'esperienza con i Lupi, sbarcare con quel talento nel calcio di B e poi addirittura di Serie A. L'Empoli è solo una tappa in ordine di tempo. Nel mezzo l'esordio apprezzatissimo è il nazionale Under 21 ed ora il sogno di essere attenzionato dalla nazionale maggiore. Desideri che si avverano che hanno il sapore della meritocrazia e della fatica consumata sui campi polverosi del calcio minore.